Anche per il 2024 i toscani in cura presso i centri di Alisi potranno proseguire la terapia anche in vacanza nei luoghi di villeggiatura. La regione promuove questa iniziativa da circa 20 anni ed è stata pensata per venire in aiuto alle persone in dialisi che diversamente sarebbero in difficoltà a programmare un periodo distante alla propria abitazione. Ma l'opportunità non si rivolge solamente ai cittadini toscani, è estesa a chiunque italiano o straniero scelga la Toscana per un periodo di vacanza. Per il 2024 la giunta regionale ha confermato 160.000 euro, la stessa stanziata all'anno prima e sarà destinata alle aziende sanitarie per poter organizzare il servizio. Le asle riceveranno un contributo di 25,82 euro per ogni prestazione straordinaria dispensata. I trattamenti goduti dai cittadini toscani che si spostano per il trattamento in asle diverse da quella di riferimento. Italiani che abitano in altre regioni o da stranieri saranno rimborsati dalle rispettive aziende sanitarie o nazionali. Nell'ultimo anno sono state circa 500 le persone che hanno usufruito del progetto dialisi in vacanza per un totale di 3.500 trattamenti. In tutta la Toscana le persone affette da insufficienza renale cronica sono il 3-4% della popolazione. Di questa percentuale i pazienti che effettuano la dialisi sono circa il 13%. 7 cittadini ogni 1.000 residenti, un dato in crescita.